Quella di oggi è una giornata importante per il nostro Abruzzo, finalmente l'Abruzzo si dota di uno strumento normativo fondamentale, io la definisco una legge dignità. Abbiamo votato all'unanimità una legge presentata da me insieme al collega Fabrizio Montepara che ringrazio per il lavoro che abbiamo svolto insieme, per questa legge diamo un contributo per l'acquisto di parrucche, di dermopigmentazione del cuoio capelluto, di tatuaggio per delle sopracciglia, caschetti refrigeranti, per tutti quei pazienti che purtroppo oggi combattono contro il tumore, per tutte quelle donne che oggi purtroppo combattono contro il tumore. Oggi veramente abbiamo scritto una pagina bellissima per il nostro Abruzzo e con questo provvedimento diamo anche la possibilità alle tante associazioni di volontariato attraverso un contributo di continuare quel lavoro capillare sui territori, ma soprattutto la novità assoluta che viene creata la banca del capello, uno strumento fondamentale sempre per incentivare la donazione dei capelli per la creazione di parrucche.